Con il Comune di Torino a luglio di quest'anno abbiamo siglato un Memorandum of Understanding per la progettazione e lo sviluppo a Torino di tre macrointerventi nella fascia 06, 616 e 1629 per promuovere la città dell'educazione con importanti stanziamenti e soprattutto con l'ambizione di fare dell'educazione di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, di diverse città in Piemonte e in Liguria, in primis la città di Torino, una delle leve di sviluppo a lungo termine per l'intero territorio. La Fondazione Compagnia di San Paolo promuove il primo social festival delle comunità educative come primo passo per realizzare il nostro sogno, contribuire a costruire una città che sempre più guardi ai bambini e alle bambine, ai giovani e alle nuove generazioni come il principale investimento per il suo futuro.